Sì, cazzo. Aspetta. Quella è una Next 5. Questo è un obiettivo da 8 mm di vecchie videocamere. No, ma parla di video. La camera è una Next 5. Guarda che strano che è. Questo obiettivo è... Che storia. È una videocamera. Vedi che viene più piccola. Che storia. È bellissimo. Oh. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.